Si aprono le porte del lab vaccinale del CEFPAS in modalità Open Day. Fine settimana dedicato alla vaccinazione libera, sabato 12 e domenica 13 dalle 9 alle 19 potranno accedere al lab tutti i cittadini che hanno superato i 12 anni d'età per poter essere vaccinati senza prenotazione. Ad aspettarli ci sarà uno staff apposito composto da medici esperti pronte a rispondere ad ogni interrogativo.